Iniziati questa mattina i lavori di demolizione messa in sicurezza della ciminiera del Molino Parisi, la struttura era stata lesionata dalle scosse di terremoto dei giorni scorsi e rischiava di cadere sui palazzi vicini, tanta gente in strada. La Commissione Grandi Rischi parla di nuove possibili forti scosse di terremoto in Emilia Romagna, suscitando la rabbia dei sindaci che parlano di allarmismo ingiustificato, in tutto questo la terra trema ma a Belluno. Tre persone sono state fermate nella notte a Bologna dai carabinieri per concorso nell'omicidio di Dino Reatti, l'artigiano di 48 anni era stato pestato a sangue l'altra notte nel cortile di casa nella campagna di Anzola Emilia e dirà poi morto all'ospedale Maggiore. Le notti fracassone in Piazza Verdi diventano terreno per uno scontro politico tra l'assessore Ronchi e il leader PD Donini, oggi interviene il sindaco Merola per difendere il suo responsabile e la cultura dagli attacchi del PD. Picchia la compagna incinta in auto in mezzo al traffico, è successo a Bologna ma un'automobilista vede tutto e chiama la polizia, gli agenti nel giro di pochi minuti bloccano Montenegrino di 26 anni e portano la donna in ospedale. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro giornale, dopo centinaia di anni di onorato servizio, prima in qualità di cammino industriale, poi come monumento la ciminiera del Molino Parisi è in via di smantellamento. La morte della struttura è stata decretata dalle continue scosse di terremoto, cominciate il 20 maggio scorso, che hanno prodotto larghe fessurazioni. Da questa mattina sono quindi cominciati i lavori di demolizione che termineranno in un paio di giorni. Da un'altezza di 25 metri la ciminiera sarà prima assegata e poi ridotta a non più di una decina di metri. Questo per evitare che possa accadere sulle case adiacenti e su via Toscana. Da questa mattina moltissima gente ha cominciato a seguire i lavori di demolizione e messa in sicurezza. Per noi è andato Gabriele Sciarra. Vediamo. Siamo davanti alla ciminiera del Molino Parisi, o in quartiere Murri, una ciminiera che è rimasta lesionata dalla scossa del 20 maggio e da quelle successive. Oggi la ciminiera sta per essere smantellata perché costituisce un pericolo per la viabilità e per le abitazioni che sono di fianco. Con questa ciminiera però se ne va uno dei simboli di questa zona. Come mai si è resa indispensabile questa operazione? Si è resa responsabile in seguito al terremoto in quanto ha tirato delle setole verticali e trasversali. Delle setole cioè? Delle crepe, volutamente dette crepe. Ecco, e come procederete adesso? Adesso imbraghiamo dei conci per un'altezza di 1,30 m, dopodiché con una macchina da taglio tagliamo i conci e con la gru li cagliamo sul bilico per portarli poi via, che verranno recuperati, messi in un magazzino in attesa di decisioni di cosa farne. Quindi al momento resterà un moncone? Momentaneamente rimane un moncone. Senta, è un'altra cosa, questo è un po' uno dei simboli di questa città, che effetto le fa decapitarle? Un po' di tristezza sicuramente, perché è una vita che la vedo qua, quindi manca un punto di riferimento probabilmente. Ed era davvero tanta la gente del quartiere con il naso all'insù per dare l'ultimo saluto a questo manufatto. Questa ciminiera ha fatto compagnia per moltissimi anni ai bolognesi, qualcuno spera anche in un recupero, ma sentiamo gli umori della gente. Allora, che effetto le fa a vedere questo lavoro? Beh, è una cosa bella vederla, comunque... Ma bella, se ne va uno dei simboli di questa zona. Questa è la cosa brutta, però se era a rischio, come si dice, a me poi, io abito là, al piano di Mezzola, quindi adesso per un paio di notte ci hanno sfrattati, siamo andati in albergo... Ah, lei è uno sfrattato? Uno sfrattato, sì, per il momento sì, fino a stanotte. Adesso, tra l'altro, stamattina, ieri sera era l'ultima notte, adesso sono... non ho ancora arrivato la conferma che per stanotte, ma arriverà perché io ci torno, io ci torno. Una grande restezza, mi viene... perché io questo qui l'ho visto da quando praticamente sono nata e mi dispiace molto che lo buttino giù. È un punto di riferimento che viene meno, è una sorta di manufatto di archeologia industriale che viene meno. Non so, potesse essere salvato. Ma pare che vogliano recuperare i mattoni per pensare in un secondo tempo ad un recupero, lei sarebbe favorevole? Sicuramente sì. Sì, recupero, vedrei bene, capisco che può essere una spesa anche per la proprietà, però forse il comune dovrebbe operarsi perché poi, insomma, ovviamente abitando da queste parti, insomma, è un dispiacere. Mi dispiace perché comunque è un bel monumento, è del 1600, però purtroppo la situazione è questa, c'è una situazione di disagio per tutti gli abitanti, per cui è chiaro che probabilmente doveva essere messo in sicurezza prima. Adesso non possiamo più dire ai nostri amici, quando venite avete il punto di riferimento alla ciminiere del Molino Pariso, la famosissima, e quindi fa molto dispiacere non aver trovato una situazione migliore per poterla mantenere in essere. Una delle ipotesi è il recupero intanto dei materiali, quindi ripristino in una fase successiva, questo però avrà un costo. Come cittadino lei è favorevole ad affrontare questo costo? Sì, direi proprio di sì, direi che sarei favorevole ad affrontarlo. In Italia il costo di queste operazioni per tutte le cose che dovrebbero essere messe in sicurezza e ripristinate sarebbe esorbitante, per cui ritengo che ci siano delle priorità più grandi. Con molta tristezza sto guardando e documentandomi un pochino nel privato mio, e quindi penso che per molti bolognesi... Ieri sera c'era un signore qua, molto anziano, che piangeva un po', e mi ha colpito. D'altra parte mi pare che sia del 1600, non so esattamente, ma comunque sia, è una cosa un po' triste per Bologna. Vorrebbe rivederla sorgere in qualche modo? Io spero, anche se molte persone pensano che siano come tutte le cose vecchie da buttare, eccetera, che non sono d'accordo assolutamente, io vorrei rivederla. Ancora scosse nelle zone terremotate dell'Emilia, la più forte di magnitudo 3.4, registrata alle 15.25. Intanto si continua a discutere, anche aspramente, dopo che la Commissione Grandi Rischi ha annunciato nuove possibili forti scosse. Qualcuno parla anche di allarmismo ingiustificato. Vediamo il servizio di Massimo Ricci. Il parere della Commissione Grandi Rischi sul terremoto in Emilia genera polemiche e anche qualche piccata risposta da parte dei sindaci dei comuni colpiti. Gli esperti, nella loro relazione al governo, hanno spiegato che, testuale, nel caso di una ripresa dell'attività sismica nell'area già interessata, è significativa la probabilità che si attivi il segmento tra finale Emilia e Ferrara, con eventi paragonabili alle maggiori scosse sismiche registrate nella sequenza. In molti hanno tradotto in, l'emergenza non è finita, non si escludono nuove forti scosse. Apriti cielo, i sindaci perplessi chiedono a questo punto che cosa debbono fare. Il numero uno della protezione civile, Gabrielli, tenta di correggere il tiro. La situazione non è prevedibile, gli fa eco il presidente dell'Emilia Romagna, Errani, che getta acqua sul fuoco. La relazione della Commissione Grandi Rischi è solo un dato statistico. Decisamente arrabbiati, si diceva alcuni sindaci. Il primo cittadino di finale Emilia, Fernando Ferrioli, per esempio, prende di petto la Commissione. Noi qui stiamo tutti cercando di risollevarci e di tranquillizzarci. E arriva questa notizia. Dove erano queste persone prima del terremoto? Si chiede Ferrioli. Una domanda che probabilmente non avrà mai una risposta. L'ansia, in qualche modo generata dal rapporto della Commissione, ha fatto vivere la scossa di oggi, magnitudo 3,4, epicentro tra Medolla, Mirandola e Cavezzo, certamente peggio di quanto fosse necessario. E allora, correggia il tiro, Luciano Maiani, presidente della Commissione Grandi Rischi, potrebbe esserci una nuova scossa di terremoto solo se riprendesse l'attività sismica. Ma non è detto, i terremoti non si possono prevedere. Già, e mentre gli esperti si arrovellano sulle scosse emiliane, la terra tremava con magnitudo 4,5. Fortunatamente nessun danno. Peccato che l'epicentro fosse a Belluno. E del terremoto ha parlato anche il vicepresidente del Senato, Vannino Chiti, che ieri sera era a Marzabotto per una visita al Sacrario dei Caduti e per partecipare ad un dibattito alla Festa dell'Unità. Sentiamo le parole del vicepresidente del Senato, Vannino Chiti. Ho avuto l'occasione a Venezia, alla Festa della Marina, proprio di parlare con il presidente napolitano. Le ho chiesto di questa sua visita, delle impressioni, avevo visto la sua commozione. Lui mi ha detto che naturalmente il colpo è stato duro e si vede, ma che c'era da un lato una risposta di solidarietà di molte parti del paese, anche di presenze di volontari. E dall'altro ho trovato, come sappiamo, una popolazione dell'Emilia-Romagna che è una popolazione abituata a rimboccarsi le maniche. Cioè sa delle difficoltà del colpo duro che ha subito, ma vuole in piedi, vuole farcela. E mi pare che si debba anche dire che il governo ha fatto un buon decreto per sostenere la ripresa delle popolazioni e delle aree dell'Emilia-Romagna. Ora bisogna attuarlo e mettercela tutta per fare la svelta e per essere vicini. Sono imprese proprio dalla zona colpita dal terremoto che rischiano di o dover cessare definitivamente l'attività o dover spostarsi altrove. E' questo il problema che bisogna evitare. Tra l'altro alcune di queste imprese, alcuni di questi distretti sono i primi in Europa, ad esempio quelli nel biomedico, e sono in genere un punto importante, pulsante della vita del paese. Quindi è fondamentale per l'Italia, non solo per l'Emilia-Romagna, che queste imprese possano riprendere rapidamente il lavoro, lo possano riprendere naturalmente in condizioni di sicurezza, che non ci siano delle localizzazioni per l'Emilia-Romagna e per l'Italia. E dobbiamo mettercela tutta per realizzare questo obiettivo. E sono passate più di due settimane dal primo sisma del 20 maggio, che ha dato il via ad uno sciame che ancora continua, ma già dalle prime ore si è attivato l'Ordine degli Architetti di Bologna, mettendo a disposizione squadre di specialisti per le verifiche sugli edifici lesionati. Un'opera che continua anche ora e che è indispensabile per avviare le fasi di normalizzazione e ricostruzione. Nella prima edizione del nostro telegiornale, delle 13.45, abbiamo fatto il punto con il presidente degli Architetti, Pier Giorgio Giannelli, ora vi proponiamo uno strage, vediamo. Ma l'argomento è molto spinoso, perché chiaramente ci sono dei distretti economici molto importanti, insomma il PIL della provincia di Modena è uguale a quello della Sicilia, e quindi c'è un problema di fermare la produzione. Non bisogna, secondo me, a mio avviso, avere fretta, perché avere fretta di ricominciare si rischia di fare come nel Friuli, dove la seconda scossa è quella che ha provocato più vittime in assoluto. Secondo me bisognerebbe trovare delle strutture all'interno delle province colpite, che sia possibile mettere in sicurezza in poco tempo e localizzare quelle industrie che sono state colpite. Io la butto lì, pensavo anche che potessero essere utilizzati alcuni poli fieristici, tipo quello di Modena o di Ferrara, che potrebbero avere la possibilità di ospitare qualcuna di queste industrie. Altro grosso problema è quello dei beni culturali, dei beni architettonici, beni storici seriamente danneggiati o comunque distrutti. Anche qui in questo caso avete delle proposte? Il grosso problema, al di là dell'altissimo tributo di vittime che le nostre province hanno pagato, molto del patrimonio culturale è stato danneggiato e in particolare sono andati persi alcuni edifici simbolo che tanto contribuiscono a creare quel sentimento di identità e di appartenenza che lega le comunità ai propri territori. Per questo motivo la federazione degli architetti dell'Emilia Romagna e il Consiglio nazionale hanno varato una campagna di raccolta fondi che si chiama Ricostruire l'identità che appunto vuole raccogliere dei contributi principalmente dagli altri ordini, siamo 105, per poter ricostruire uno di questi simboli sul territorio. Senta, in generale per la ricostruzione quali sono le proposte? A livello di Consiglio nazionale noi siamo da tempo parlando di rigenerazione urbana perché noi ci dobbiamo rendere conto che il nostro paese oltre che essere vulnerabile da un punto di vista sismico lo è anche dal punto di vista idrogeologico come dimostrano i fatti avvenuti in Liguria, sia a Genova che alle Cinque Terre quest'inverno. Quindi quello che dovremmo fare è una manutenzione del nostro paese ma una manutenzione fatta secondo le maggiori tecnologie in campo chiaramente arrivando anche a sostituire quell'edilizia che è stata fatta dal dopoguerra fino agli anni 70 che è assolutamente inadeguata sia dal punto di vista sismico chiaramente ma anche dal punto di vista energetico perché questo patrimonio qui consuma come otto centrali nucleari. Senta, ultima domanda a proposito delle scosse che abbiamo avvertito tutti anche in città, anche a Bologna tanta la paura, tanti gli edifici per la verità visionati, periziati, alcuni dei quali dichiarati inagibili in particolare scuole anche da noi, ma ci sono dei segni nel nostro piccolo che noi cittadini residenti possiamo cogliere nelle nostre abitazioni e che ci possono dire, va bene, no, sto tranquillo oppure è il caso che io chieda una consulenza per capire se questa crepa magari è pericolosa. Sì, è la domanda del secolo comunque. Diciamo che in linea di massima se si osservano delle lesioni sull'intonaco di un certo livello non chiaramente quelle che vengono chiamate setoline, che tendono ad allargarsi cose del genere è bene chiamare un tecnico. Se si vive in un palazzo che ha la struttura, per esempio del solaio in legno bisogna vedere che non ci siano dei piccoli detriti per terra perché questo significa che il legno sta un po' sgretolandosi e bisognerebbe controllare gli appoggi. Le strutture in cemento armato sono solitamente più elastiche quindi in teoria dovrebbero rispondere meglio a quello che è l'evento sismico e comunque per qualsiasi cosa bisogna chiamare un tecnico in caso si può anche chiamare l'ordine degli architetti noi siamo a disposizione. Cambiamo argomento la cronaca inizialmente doveva trattarsi di una spedizione punitiva per convincerlo a rassegnarsi alla fine del suo matrimonio invece è degenerata in un agguato mortale per la morte di Dino Reatti, 48 anni i carabinieri hanno fermato tre persone la moglie, l'amante di lei ed un amico sono tutti accusati di concorso in omicidio volontario vediamo il servizio tre persone sono state fermate nella notte a Bologna dai carabinieri per concorso nell'omicidio di Dino Reatti l'artigiano di 48 anni era stato pestato a sangue nella notte tra giovedì e venerdì nel cortile di casa nella campagna di Anzola Emilia ed era poi morto all'ospedale maggiore si tratta della moglie della vittima Sonia Bracciale, 44 anni dell'attuale compagno Thomas Sanna, 35 anni e di un amico di questi Giuseppe Trombetta, 40 anni l'ipotesi che ha portato gli investigatori coordinati dal PM Rossella Poggioli a chiudere il cerchio intorno ai tre e che la donna con la quale Reatti era in crisi da tempo che si stava per separare abbia istigato gli altri due sentiti per tutto il pomeriggio di ieri e per parte della serata dai carabinieri alla fine dopo alcuni tentativi di depistaggio e due uomini hanno ammesso spiegando che la loro intenzione era quella di dargli una lezione per intimidirlo poi però quando questi hanno reagito hanno perso la testa e si sono accaniti anche con spranghe di ferro siamo arrivati a loro dicevo perché la locale stazione conosceva la vicenda pregressa vale a dire le tensioni che c'erano in questa fase di separazione tra moglie e marito e conoscevano l'attuale compagno di quello della moglie partendo da questo siamo risaliti alla rete di amicizie del marito e abbiamo potuto così ricostruire meticolosamente gli spostamenti dello stesso per cui ci siamo resi conto che dalle versioni da lui fornite dalle versioni fornite dagli amici e dai rilievi eseguiti dalla sezione investigazioni scientifiche c'erano delle incongruenze messi poi di fronte a queste incongruenze messi di fronte all'omicidio che avevano causato sono crollati due autori che poi hanno confessato diciamo che avevano pianificato un altro tipo di azione sempre nei confronti della vittima di Noreatti nella loro ipotesi c'era quella di rubare la macchina e incendiagliera sono crollati subito oppure hanno resistito? no, hanno resistito diciamo che sono stati sono crollati man mano sono messi di fronte alle varie incongruenze i passaggi illogici che davano e messi a confronto le versioni fornite l'uno dall'altro alla fine sono crollati diciamo che soprattutto per non il compagno ma l'altra persona il sapere che era morto di Noreatti è stato un duro colpo è stato quello che l'ha spinto poi a cedere a confessare quelle che erano le sue responsabilità ancora cronaca all'interno della propria auto è stato visto colpire più volte la compagna incinta per questo Montenegrino di 26 anni ieri è stato denunciato a Bologna dalla polizia per maltrattamenti in famiglie e lesioni ad avvertire il 113 è stato un altro automobilista che ha spiegato alla centrale operativa di avere notato dentro la polo ferma davanti a lui ad un semaforo un uomo alla guida a prendersela con la donna seduta a fianco la scena è cominciata verso le 16 in via Zanardi alla prima periferia e la vettura è stata fermata circa mezz'ora dopo in via all'Europa portati entrambi in questura prima i due hanno detto di avere avuto solo un acceso di verbio poi una volta sentiti separatamente la giovane, un albanese di 23 anni ha ammesso di essere stata picchiata portata all'ospedale maggiore è stata dimessa con quattro giorni di prognosi e noi ci fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio con ETG tra poco di nuovo in studio con ETG prima di andare avanti con il giornale rivediamo insieme i titoli del nostro telegiornale iniziati questa mattina i lavori di demolizione messa in sicurezza della ciminiera del Molino Parisio la struttura era stata lesionata dalle scosse di terremoto dei giorni scorsi e rischiava di cadere sui palazzi vicini la commissione grandi rischi parla di nuove possibili forti scosse di terremoto in Emilia Romagna suscitando la rabbia dei sindaci che parlano di allarmismo ingiustificato in tutto questo la terra trema ma a Belluno tre persone sono state fermate la notte a Bologna dai carabinieri per concorso nell'omicidio di Dino Reati l'artigiano di 48 anni era stato pestato a sangue l'altra notte nel cortile di Casera nella campagna di Anzola Emilia ed era poi morto all'ospedale maggiore tra i fermati la moglie le notti fracassoni in Piazza Verdi diventano terreno per uno scontro politico tra l'assessore Rocchi e il leader PD Donini oggi interviene il sindaco Menola per difendere i suoi responsabili e la cultura dagli attacchi del PD picchia la compagna incinta in auto in mezzo al traffico è successo a Bologna ma un automobilista vede tutto e chiama la polizia gli agenti nel giro di pochi minuti bloccano Montenegrino di 26 anni e portano la donna in ospedale per l'uomo l'accusa e maltrattamenti e lesioni di familiari il programma di concerti estivi in Piazza Verdi si trasforma in uno scontro politico tra la giunta Merola ed il partito democratico in mezzo ai cittadini che chiedono di dormire e sono pronti a fare causa a servizio di Massimo Ricci che la situazione di Piazza Verdi fosse ormai un caso lo si sapeva adesso però diventa anche un caso politico la famosa piazza è sede dei concerti dell'estate Rocchi ideata dall'assessore comunale Alberto Ronchi i comitati dei cittadini residenti hanno espresso la loro contrarietà memori delle notti fracassone delle stati passate ma l'assessore ha tirato dritto e li ha bollati come tromboni è a questo punto che è intervenuto il leader provinciale del partito democratico Raffaele Donini a stoppare l'assessore meno spocchia più umiltà e più dialogo attacca Donini io non ho la verità in tasca ma diffido di chi la brandisce Ronchi però non pare cedere e a dargli in manforte scende in campo il sindaco in persona Virginio Merola in piazza Verdi si va avanti con la programmazione culturale decisa dall'assessore dichiara il primo cittadino che spiega il problema non attiene alla programmazione culturale ma agli assembramenti di persone dopo i concerti Donini non mi sembra sia entrato nel merito della programmazione culturale commenta Merola che però ci tiene ad aggiungere come per tutti gli assessori di questa giunta non esiste che qualcuno faccia qualcosa che il sindaco non condivide intanto i residenti vanno avanti il comitato di via Petroni sta preparando un ricorso al TAR documentando con certificati medici i disturbi di salute per chi non riesce a dormire in arrivo anche una causa legale Raffaele Donini segretario provinciale del PD non si scompone di fronte alla reazione di Merola che oggi come abbiamo sentito ha difeso il suo assessore alla cultura Alberto Ronchi e l'estate rock mica avevo chiesto delle dimissioni fa notare Donini che poi aggiunge ho chiesto meno spocchi e meno arroganza perché come fa il sindaco serve dialogo confronto e apertura ma rispetto a tutto questo piazza alla stoccata Donini Ronchi mi sembra ancora un po' lontano e grande successo ieri sera per la notte bianca a San Lazzaro di Saver alle porte di Bologna ieri c'è stato un pienone oltre ogni aspettativa ha ricordato il sindaco Marco Maciantelli una marea di gente moltissimi giovani la via Emilia pedonalizzata chiusa al traffico aperta al passeggio tra via Iussi e via Fornace restituita ai cittadini con un senso molto forte di riappropriazione queste dunque le parole del sindaco di San Lazzaro Marco Maciantelli noi ci fermiamo un attimo a tra poco il nome studio con Etigino ci sono aggiornamenti dell'ultima ora rivediamo insieme i titoli del nostro giornale iniziati questa mattina i lavori di demolizione messi in sicurezza della ciminiera del Molino Parisi la struttura era stata lesionata dalle scosse di terremoto dei giorni scorsi rischiava di cadere sui palazzi vicini tanta gente in strada per dare l'addione dei punti di riferimento della città la commissione Grandi Rischi parla di nuove possibili forti scosse di terremoto in Emilia Romagna suscitando la rabbia dei sindaci che parlano di allarmismo ingiustificato in tutto questo la terra trema ma a Belluno tre persone sono state affermate la notte a Bologna dai carabinieri per concorso nell'omicidio di Dino Reati l'artigiano di 48 anni era stato pestato a sangue l'altra notte nel cortile di Casena la campagna di Anzola Emilia ed era poi morto all'ospedale maggiore tra i fermati la moglie le notti in fracassone in Piazza Verdi diventano terreno per uno scontro politico tra l'assessore Ronchi e il leader P.D. Donini oggi interviene il sindaco Merola per difendere il suo responsabile la cultura dagli attacchi del Partito Democratico picchia la compagna incinta in auto in mezzo al traffico è successo a Bologna ma un'automobilista vede tutto e chiama la polizia gli agenti nel giro di pochi minuti bloccano Montenegrino di 26 anni e portano la donna in ospedale per l'uomo l'accusa è di maltrattamento e lesioni di familiari ed è tutto con questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'attenzione a tutti voi una buona serata e un buon fine settimana arrivederci grazie a tutti